Grazie. Grazie. Grazie a te lo dico. Il massetto, sì, il massetto è un po' le guardie. Vai, due minuti ho fatto, guarda. Uscite un secondo. Il bagno lascialo dietro. Il bagno è ripreso dietro. Sì. L'altro di fronte è lo stesso... Già stato venduto. Ah, quale, quello tutto da rimettere. Non sa nemmeno lui ancora cosa fa. Sì. Sì, però... Sì, vai, vai, vai. Vai, vai così. Sì, però non ho male l'idea. Intanto vai, vai. Così ti... Pietro esci che faccio il film. E non fino a questa... Fino a questa dimensione. Nel soggiorno pranzo. E non finiscono. E non finiscono.